Ciao a tutti ragazzi e bentornati, siamo dal Rupenir, ci troviamo, che abbiamo avuto questa campagna della precedente e dietro, passiamo in turno Eh, si festeggia, perfetto, bene Allora, mi sa che anche se facessi, eh non posso farlo Mi conviene un attimo di stare fermo E aspettare Mi sembra abbastanza grosso e cazzuto Ma se facessi le mure cosa mi devono? Eh, mi dà un altro scagliere a Ancori Eh, mani grandi Però a due turni non ci arrivo a due turni Posso inviare le forze a questo qua? Allora, inizia Non riuscirei a scoperti Cazza, cazza, cazza cazza Che un buono Ma dovrei farlo Ma dovrei farlo Diciamolo qua Ho il forze a così Ma dovrei andare alle ore Oh Provo della Torre Ero Diciamo questa emerged Musa 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 Ma perchè inviare l'offerta della ginga? La ginga degli ingegneri ha dei nuovi progetti per... Sono tante qualità da fare... Ma il giro è poco... Ma tanto non ce li ho? Che cazzo? Possiedi... Possiedi io eh? Eh... Possiedi io? ... Ma che cosa? Tu si metti in un po' 7 6 7 7 7 7 8 8 7 8 8 8 Ehm, proprio ti dicevo che se mi dava un free walk plan leale mi dava più oro o qualcosa e invece stavo fuoco all'altro, sti cazzo, plan leale, pazzo. ... ... ... ... se avessi un pochino più di roba non voglio rischiare che ne arrivi una volta il cazzo di urchi è rompermi il cazzo quindi mi ritengo lì, al momento le forze intanto aumento la crescita l'autonomia deve fare tutto qua, vediamo che cazzo più 30% crescita riuscita non siamo vicini ah non ho più so eh però almeno dovrei essermi sistemato così ragazzi benvenuti benvenuti cosa volete? togliamo una salvata ok voi non l'avete visto ma ho salvato rupa nera oro il 900 4 turni mi piace ma noi siamo nani perciò l'oro ci piace adesso vincerò così ragazzi molto velocemente chiedi un favore e io cerco con il Demos Cron che sei vero come si vuole sta paziente e ti interroppo guerra e ti interroppo guerra sta paziente e ti interroppo guerra che vengalo come sempre che vengalo come sempre e ti interroppo andami 15 ok c'è che che l'unico perchè Ok Facciamo anche uno guardo in giro Questa puntata sarà un po' così ragazzi Abbiate pazienza non sempre si può sempre correre Ok Non ho comunque stato tutto qui Non è come lei li fa Ritake the realm Posso magari già affacciarlo Spacchinovi gli trispassi Ecco se mi fate il favore voi orchi vorrò magari di attaccare il rociferio mi fa anche piacere Facciamo una bella super automatica Perchè conviene anche andare in giro e magari fare queste cose Stiamo a prendere anche i livelli di cose Personaggio Ordine pubblico Ordine pubblico non è male Ok non posso morire adesso Mi prego non ditemi Ah no stiamo solo saccheggiando Non voglio che vadano qua cazzo c'erano le palle For the wisdom of the layer Si sposta le truppe sotto Eccoli Maledetti Lo sapevo che vengono a rompermi i coglioni di Che davano i miri proprio da me Ah sono circondati Facciamo una salvata Cioè che poi capite c'era la rupe nera che era degli altri dei brag No deve venire da me Dove diavolo sta andando Summoni se sei morto Genial Questa ci si è morto Oh no Grazie Questa ci si muove Allora Basta ci muove Grazie Non ci sono mai riusciti. Non ci sono mai riusciti. Scrivi i pezzi. Rai riusciti. Rai riusciti. Rai riusciti. Ok, ok. C'è che si vengono poi non mi interessa. Non mi sembrava che non mi sembrava. Non mi sembrava che non mi sembrava. Ok, ok. Non mi sembrava. Non era solo un insediamento. Così non. Non è un problema di tutti. Male. E' il grande King. Ero più rete. Se vuoi che ti dia dei soldi per controforti C'è un po' che c'è un po' che c'è Ah, sì, la sua rimposa. Sì, non c'è nessuno, non c'è nessuno. Sì, non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno. Sì, non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno. 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 Grazie. 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 Grazie.